tutta punta in serie b mezza punta in serie a eroe della muviola sempre a bocca aperta per i soldi 15 gol all'anno 27 gol all'anno botte tremende contro gli avversari alla schiena alle gambe al bacino al torace e adesso sono sulla carrozzella paralizzato dalla sclerosi laterale amiotrofica detta anche morbo di lugherig dal giocatore americano di baseball che fu la prima vittima accertata della mia malattia l'altro giorno a quella santa di mia moglie dicevo ma tutto questo è a caso commento certo che non è a caso se non praticavi uno sporto violento come diventato il calcio non ti ammalavi di slà la legge che è amore corregge sempre la violenza grazie a tutti